www.telemolise.it che ha scritto una pagina importante nella storia della televisione dell'emittenza privata, non solo regionale ma direi italiana. Questa sera alle 20.30 sul canale 112 Telemolise Sport andranno in onda gli Oscar del 94 con ospite d'eccezione Fausto Leali. Per il calcio immediatamente in campo per la Coppa Italia domani pomeriggio alle 15.00 il Termoli sarà di scena a Pomigliano. L'Olimpia agnonese se la vedrà in casa del Torrecuso per i 32esimi della Coppa Italia. Neanche il tempo di archiviare le gare della seconda giornata di campionato che Termoli e Olimpia agnonese tornano in campo per i 32esimi della Coppa Italia. Dopo la sconfitta contro l'Ancona e il pareggio casalingua all'esordio con la Maceratese, i bassomolisani del Termoli debutteranno nella competizione tricolore contro il Pomigliano. Gli Adriatici hanno preso parte alla Team Cup e sono stati battuti dal Forte Pisa. Scenderanno in campo anche Granata che se la vedranno contro il Torrecuso. Le due squadre molisane giocheranno in trasferta. Inoltre ricordiamo che l'Agnone in campionato ha sconfitto il Pesaro e pareggiato con il Sulmona, mentre in Coppa Italia nella gara contro l'Isernia ha dominato il campo nel primo turno eliminandola con il punteggio all'inglese di 2 a 0. L'appuntamento è fissato per domani alle 15.00. Sarà una gara secca e quindi le squadre qualificate avranno accesso alla fase successiva e si affronteranno. Una buona occasione per il Termoli per riscattarsi dal debutto in campionato e preparare il prossimo impegno. Per la terza giornata al Gino Cannarsa arriverà il Giulianova che in attacco conta l'ex di turno Vittorio Esposito, il talento di San Martino in Pensilis in gol domenica scorsa contro l'Isernia. Probabilmente il tecnico Sauro Trillini farà scendere in campo una squadra revisionata, visto il prossimo impegno di campionato. Lo stesso vale anche per l'Olimpia agnonese. Domenica prossima al Civitelle arriverà il Boiano per il primo derby stagionale. A proposito dell'Olimpia agnonese, non solo prima squadra ma naturalmente anche settore giovanile. Infatti sono aperte le iscrizioni per la stagione 2013-2014. I corsi partiranno lunedì prossimo alle 15.00 e si svolgeranno al Civitelle di Agnone. Anche quest'anno la società Granata ha previsto delle agevolazioni per i non residenti e per i fratelli è previsto anche l'ingresso gratuito alle partite casalinghe della prima squadra. Sul Mona prima è Giulianova poi due sconfitte consecutive per l'Isernia che non ha avuto un buon avvio di stagione, ma la società Bianco Celeste smentisce le voci di un probabile esonero di mister Renna. Il tecnico dei Bianco Celesti da oggi torna a lavorare con i suoi ragazzi per preparare la seconda trasferta consecutiva in casa della Fermana. Non sarà della gara, certamente Vanacore, espulso nel finale dell'incontro. Il Boiano ha avuto un ottimo avvio di campionato, una vittoria e un pareggio. Domenica prossima al Civitelle andrà di scena il primo derby stagionale contro l'Olimpia agnonese. La società matesina spera di ottenere il transfert per Etogo e riuscire a formalizzare il tesseramento di altri calciatori. A proposito del pareggio con la Civitanovese, ne abbiamo parlato con Morale, capitano dei Biancorossi. Siamo con il capitano del Boiano, Alessio Morale. Un ottimo pareggio con la Civitanovese, una delle squadre accreditate alla vittoria finale. Sì, abbiamo fatto una buona partita. Siamo partiti un pochettino leggerini, però soprattutto nel secondo tempo meritavamo anche il vantaggio. Loro sono una squadra fatta, costruita per vincere. Noi siamo tutti giovani, vogliosi di fare bene e ci siamo riusciti per noi. È come una vittoria questo pareggio. La vittoria sul campo dell'Olimpia di Guiragorana era importante, ma questo è stato un banco di pro, un test molto attendibile. Marcare Pazzi o Bolzan non era una cosa aggiva? Pazzi e Bolzan, lo sappiamo tutti, sono dei giocatori i migliori della categoria, del girone. Sicuramente uno ogni partita cerca di fare del proprio meglio, poi ci può stare che magari un giocatore del genere possa fare gol. Però ti ripeto, io e Sabatino non sono stato solo io a marcarlo, anche il mio compagno di reparto ha fatto una grandissima partita e come tutta la difesa, il centrocampo, siamo contenti. Abbiamo preparato bene questa partita contro una signora squadra e diciamo che siamo stati anche da un lato un po' fortunati perché il primo tempo ci hanno messo sotto, però siamo stati bravi a reagire. Il prossimo turno presenta il primo terzio stagionale con l'Olimpia agnionese al Civitelle. L'ambiente di i tifosi ci tengono molto a questa gara. Sì, noi ti ripeto, come ho detto prima, cercheremo di fare sempre il meglio. Siamo una squadra di giovani, vogliosi, ci conosciamo da poco, per cui, figurati oggi, è la prima partita che io ho fatto con Sabatino per dire che ancora non ci conosciamo bene ed è normale che ci può stare anche qualche piccolo errore. Contro l'Agnone cercheremo di fare una partita ancora più bella rispetto a quella che abbiamo fatto oggi cercando di prendere i tre punti e raggiungere la salvezza che è il nostro obiettivo prima possibile. Come ultima domanda, volevo fartela sul tuo passato, l'anno scorso alla Turris, una stagione che, insomma, è finita male. Una stagione che è finita... no, non è finita male. Diciamo che abbiamo vinto la Coppa Italia, i play-off, purtroppo, come si sa, sono una lotteria. L'unico rammarico è, più che altro, da parte della dirigenza che non ha mantenuto gli impegni economici che aveva preso. Per cui, diciamo che ci siamo rimasti male sotto questo punto di vista, sotto il punto di vista umano, perché il Presidente ci aveva fatto delle promesse che non ha affatto mantenuto e questa, diciamo, è stata la cosa. Nonostante noi abbiamo fatto il massimo per lui, lui invece non è stato di parola e non ha mantenuto le promesse che ci aveva fatto. Calcio giovanile, la scuola calcio Mirabello ha consegnato delle magliette e due palloni all'orfanotrofio di Cissin in Africa. Padre Abel e i bambini hanno organizzato una festa per accogliere l'associazione Bambini nel deserto con canti e balli. Nell'occasione sono stati consegnati i gadget del Mirabello. Ripresa degli allenamenti per il Campobasso dopo il debutto contro il Roseto, domenica prima trasferta a Sant'Elia. A proposito della squadra, tra i giovani cresciuti nel bivaio delle Acli, Palazzo. Noi lo abbiamo avvicinato. Giuseppe Palazzo, sembra quasi che l'emozione contiene la facciata padrona. L'abbiamo visto già dai primissimi impegni contro lo Spinete, contro le Acli, confermato in campionato, molto disinvolto. Come mai? Sto cercando di fare il mio meglio e spero di giocare il più bene possibile. Cerco di impegnarmi al massimo. Io mi rifiacevo più che altro proprio allo stato emotivo. Non ti ha emozionato scendere in campo con la maglietta rosso-blu, subito bagnare l'esordio contro lo Spinete e poi le varie partite. Subito molto determinato ti abbiamo visto. Sì, sì, sì. Lo diciamo rispetto all'età. Spero di fare bene anche prossimamente. Ce la sto mettendo tutta. E poi c'è una responsabilità particolare legata al fatto degli under. Praticamente sei quasi destinato a giocare sempre. Sì, spero che possa riuscire a giocare sempre. Adesso sta andando bene e spero che continui così. Un molisano con la maglia del campo basso. Sei di dove? Di Guardia Alfiera? Sì, Guardia Alfiera. Sono orgoglioso. Un prodotto delle Acli comunque. Quindi sei nell'orbita Acli, conosci l'ambiente campo basso. Sono giovanissimi che sto alle Acli. Quindi insomma che cosa ci vuole? Cosa consiglieresti a un giovanissimo per arrivare dove sei arrivato tu per ora? Anche se poi il cammino è ancora molto lungo. Di metterci impegno. Solo? No, impegno e determinazione. E poi anche ci vuole una buona dose oltre che di bravura anche di fortuna credo. Sì, sì, fortuna e impegno. C'è l'impegno. Senti, ti aspettavi qualche mese fa di giocare in difesa come collega di avere Minadeo, lo stesso Scampamorte o Scudier? Sono molto contento di giocare con loro due in difesa. Sono due grandissimi giocatori. Sono quelle cose della vita che non ti aspetti? No, assolutamente. Buon avvio di stagione anche per il Fornelli che quest'anno ha allestito un organico di tutto rispetto. La società Bianco Verde è in attesa anche della fine dei lavori al campo per il sintetico, sintetico che è curato anche dalla ditta giocagio di Campobasso. Infatti domenica i ragazzi di Debellis dovrebbero ospitare il sesto campano a Roccaravindola. A proposito della squadra, Cifani autore del raddoppio contro la Cliternina. Fabio Cifani, bentornato. Non solo in terra molisana ma anche con il gol un anno di purgatorio lontano dalla tua seconda terra che è il Molise e adesso una nuova avventura con la maglia del Fornelli. Sì, avevo fatto una scelta di vita perché avevo trovato un buon posto di lavoro poi ho avuto un brutto infortunio al ginocchio e ho deciso di nuovo di rimettermi in gioco. Ho trovato una società seria che mi ha dato anche l'opportunità di lavorare tranquillamente e sono felicissimo dopo quattro mesi sono tornato in campo e ho fatto anche gol. Senti, un Fornelli che parte col pronostico a proprio favore c'è anche il Campobasso e comunque fra le squadre che devono vincere questo torneo però ci sarà da faticare tantissimo. Vedi la partita contro la Cliternina? Sì, loro erano una buona squadra organizzata menavano però noi siamo stati capaci di sbloccare la partita al punto giusto e penso che dobbiamo lavorare in settimana perché dobbiamo migliorare su noi stessi poi domenica c'è il sesto campano poi dopo pensiamo al Campobasso anche loro hanno i loro problemi sicuramente facciamo questa corsa che non lo so altre squadre gli si presenterà più insieme a noi al Campobasso. Senti, hai sofferto tantissimo tra l'altro avevi subito un piccolo infortunio in campo poi stavi per uscire alla fine hai stretto i denti sei rimasto in campo poi hai fatto anche il secondo gol? Sono stato fortunato no, non volevo uscire perché ho avuto questa botta a ginocchio si stava sento come si voleva girare ho pensato che mi ero fatto male poi fortunatamente mi sono alzato e era solo una botta e poi fortunatamente ho fatto gol poi proprio a sinistra sono contento. Senti, domenica prossima primo banco di prova veramente importante è il sesto campano. Sì, abbiamo preso secondo me inizio di campionato duro perché qui secondo me non è facile vincere loro menavano veramente spero di fare sempre dei punti noi dobbiamo lavorare in settimana e poi ci presentiamo la domenica vediamo chi è l'avversario noi dobbiamo pensare a noi stessi. Subito i tre punti per il Gambatesa che nell'esordio in campionato ha battuto nettamente la Sant'Eliana per il prossimo turno subito trasferta ostica in casa della gioventù Dauna a proposito della squadra Giuseppe Tosches Giuseppe Tosches attaccante del Gambatesa 5 a 2 si parte bene e volevamo partire bene appunto perché già sabato prossimo abbiamo un incontro ostico in trasferta contro una una squadra quotata un po' di più della nostra contro i Monti Dauni quindi i tre punti di oggi servono sia per il morale servono per partire bene anche se all'inizio siamo partiti un po' con il freno a mano tirato però piano piano sono ucciti i nostri valori e il 5 a 2 dice tutto praticamente sei stato anche autore di una bellissima punizione perfetta devo dire te la sentivi e hai calciata alla grande si me la sentivo le abbiamo provate in settimana poi avevo il mago Capobianco che prima aveva partito che aveva fai gol sul punizione quindi l'esultanza la corsa verso lui è stato proprio per questo motivo ma ripeto sono cose provate riprovate in allenamento e per fortuna siamo riusciti legato a Capobianco nel bene e nel male perché poi la sua espulsione tra virgolette ti è costata l'esclusione ma andava fatta in quel momento una scelta perché eravate rimasti in inferiorità numerica a Soda non c'è nessunissimo problema uno degli attaccanti doveva andare via quindi il mister ha voluto che uscissi io ci ha visto bene perché il re ha fatto due gol quindi ottima scelta diciamo nel cambio e dunque riparte questa stagione primi tre punti in archivio l'obiettivo è sempre quello della salvezza ci sarà da soffrire ma voi siete pronti allora il nostro obiettivo è sempre e comunque la salvezza sappiamo i nostri mezzi quali sono cercheremo di raggiungerla quest'anno escludendo i play out finali quindi speriamo bene la partenza è quella giusta speriamo di dare continuità i nostri risultati i 90 minuti tra Gambatese e Sant'Eliana saranno trasmessi in differita sul canale 12 Telemolise 2 a partire dalle 17 inoltre andranno in onda anche alle 18 e 15 sul canale 112 Telemolise Sport dopo aver vinto in casa della neopromossa Montaquila il Venafro sabato ospiterà un'altra matricola la cliternina e abbiamo parlato con Velardi Enrico Velardi che ti sembra di questa prima di campionato? bene soprattutto per il risultato per il gioco sicuramente siamo stati diciamo abbastanza agevolati dall'espulsione iniziale comunque giusta e va bene siamo un gruppo di giovani oggi è andata bene e c'è da lavorare comunque ci avete messo un po' per carburare vi ha dato difficoltà questo nuovo Montaquila? sì ma sicuramente il Montaquila comunque è una buona squadra noi siamo vi ripeto siamo comunque in fase iniziale anche noi qualche cosa di buono sarà visto già nel primo tempo solo che man mano fortunatamente siamo riusciti a sbloccare il risultato dal primo gol poi è stato un inarrestabile susseguirsi di reti sì tra l'altro mi fa piacere che diciamo abbiano sognato Marziale Patricello insomma due leader di questa squadra poi i giovani insomma una bella domenica da ripetere eh ma sicuramente speriamo giovedì il Cerce Maggiore presenterà ufficialmente a stampa e tifosi la squadra che prenderà parte al prossimo campionato di prima categoria il club del presidente Pedata è stato inserito nel girone B il via al campionato in programma il 29 settembre nell'occasione verranno presentate anche le squadre giovanili lo staff tecnico e la dirigenza debutto con i tre punti per il Castel Mauro che di misura ha superato il Toro i ragazzi di Esposito stanno preparando il prossimo impegno contro il Molise sentiamo proprio il tecnico del Castel Mauro siamo con Sandro Esposito mister del Castel Mauro mister ma io di così non si poteva partire sì io penso che si debba parlare solo dei ragazzi che alleno perché hanno fatto una partita incredibile oggi mancavamo di quattro ragazzi perché per noi venire a giocare di sabato è sempre un problema perché ci sono dei problemi lavorativi che giustamente per loro hanno la priorità io devo parlare soltanto di questi ragazzi perché hanno fatto una prestazione incredibile fatta di tutto cuore di grande preparazione della partita di grande pressione di grande pressing di grande attenzione contro degli avversari che avevano una grossa esperienza dei giocatori che conosciamo tutti quanti devo dire veramente grazie ai ragazzi anche e soprattutto dell'applicazione che hanno messo durante questa settimana e tutto il periodo preparatorio con cui siamo stati insieme gente che è molto giovane gente che non ha mai fatto questa categoria sono molto contento e faccio i complimenti a questi ragazzi primo tempo di grande sofferenza per voi vi siete divisi bene però niente da dire questo primo tempo aveva siete più giocati a viso aperto poi il gol di Moscufo e ha fatto vincere la partita sì io devo dire che il primo tempo siamo entrati un po' contratti un po' impauriti perché comunque sapevamo che avevamo delle difficoltà i ragazzi lo sapevano i ragazzi sapevano che avevamo di fronte una squadra forte però per me giocare bene in alcuni frangenti della partita è difendersi anche bene con tanto cuore con tanta anima con tanta organizzazione di squadra e devo dire che non è scappato niente devo fare solo i complimenti ai miei giocatori ecco io devo dire che comunque nel primo tempo tre quattro occasioni buone soprattutto nella seconda metà del secondo tempo l'abbiamo avuta abbiamo cercato sempre di giocare palla anche su un campo veramente difficile perché comunque noi non siamo abituati tanto su questo campo sono veramente molto contento lo ripeto C'è voglia di riscatto in casa del Toro che sta preparando il derby contro il campo di Pietra ne abbiamo parlato con il tecnico Siamo con Franco Lungo allenatore dell'Ernestoro una brutta sconfitta quella maturata in casa la prima giornata Sì sicuramente una sconfitta che sicuramente non era in programma però dobbiamo fare i complimenti al Castel Mauro che anche se non ha costruito un'azione da rete oltre al gol che è stato anche un errore nostro difensivo purtroppo le partite sono anche queste attacchi fai 5 occasioni da rete non finalizzi purtroppo le partite si perdono anche in questa maniera Le partite si perdono così possiamo dire che il Castel Mauro ha segnato al secondo tiro in porta è un errore della difesa del Toro ma poi abbiamo visto un po' recriminare sull'ultimo episodio su Paduano in cui avete chiesto il rigore va bene a prescindere dagli errori che si possono commettere che possiamo commettere noi e anche la terna arbitrale questa non è una giustificazione abbiamo perso una partita che sicuramente ci dovrà far pensare ci dovrà far crescere per le prossime perché sicuramente sulla carta ce l'avete visto anche voi il livello delle due squadre insomma era nettamente diverso comunque complimenti a Castel Mauro perché ci ha creduto e dobbiamo rimboccarci le maniche per il futuro Atletica dopo domani il campo di Atletica Nicola Palladino di Campobasso ospiterà a partire dalle 17 il Menea Day dove è prevista la gara dei 200 metri potranno prendere parte alla manifestazione tutti gli atleti tesserati Fidal di altre federazioni sportive ed enti di promozione sportiva il ricavato della quota di iscrizione verrà devoluto all'associazione Pietro Menea Onlus Scacchi sabato 21 settembre alle 15 si svolgerà la seconda edizione del Memorial Costanzo Muccio scomparso prematuramente tre anni fa torneo semilampo a sei turni sistema svizzero il Memorial non avrà premi in denaro ma ci saranno coppe e medaglie per i primi tre classificati assoluti e per i vincitori di categoria bene era l'ultima informazione per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio a Musica